Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Instant Focus dedicato alle competenze digitali e alla formazione, in particolar modo la formazione digitale, un tema che abbiamo affrontato spesso nei nostri approfondimenti. Abbiamo dedicato anche varie tavole rotonde all'interno del nostro HR Forum che è andato in scena a Palazzo Mezzanotte lo scorso 6 maggio e continuiamo a parlarne perché è un tema estremamente attuale e caldo e lo facciamo con un vero e proprio esperto del settore che è venuto qui a trovarci nei nostri studi. Si tratta di Franco Amicucci, sociologo, formatore e presidente della e-learning company Schilla. Benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie dell'ospitalità. Bene, dottora Amicucci, parliamo appunto di competenze digitali, di formazione digitale, però dobbiamo farlo a partire da un dato che non è particolarmente lusinghiero per il nostro paese e mi riferisco soprattutto all'ultimo indice desi del 2022. Spieghiamo di cosa si tratta l'indice dell'economia e della società digitale. L'Italia si posiziona al 25esimo posto davanti solamente a Bulgaria e Romania. Io le chiedo innanzitutto perché nel nostro paese la cultura digitale è così arretrata e cosa dobbiamo fare per colmare questo gap? Ma questo è uno specchio, credo, del nostro paese. La cultura digitale rappresenta l'innovazione e rappresenta poi il futuro delle competenze. Ecco, il nostro è un paese fermo purtroppo per tutto ciò che riguarda l'innovazione, innovazione, riforme e cambiamenti. Però sul digitale c'è un approfondimento anche da fare, che è questo. Da una parte va di pari passo anche con l'età. Noi siamo il paese anche più anziano d'Europa, quindi dalla parte il digitale è comunque un elemento anche che nasce con le nuove generazioni su questo. Quindi da una parte abbiamo l'elemento demografico e l'invecchiamento della popolazione, che è l'elemento più, chiamiamolo, di struttura e l'altro è l'elemento di cultura, la difficoltà del nostro paese di cavalcare le innovazioni, di anticiparle, ma arriviamo sempre un po' in ritardo perché prevale sempre l'elemento critico rispetto invece a cogliere l'opportunità. È vero, è verissimo. Ecco, tutti i fattori che lei ha messo sul piatto incidono in maniera negativa. Ha utilizzato un'espressione che mi ha colpito particolarmente, cioè l'Italia, il nostro paese è un paese fermo, però il resto del mondo corre e insomma vediamo quanto lo sviluppo tecnologico, l'avanzamento digitale sia importante, sia determinante sia per le aziende che per i lavoratori per restare al passo, per essere competitivi nel mercato del lavoro. Ecco, quali sono le strategie migliori nell'ambito della formazione proprio per aiutare sia aziende che lavoratori? Allora, la formazione intanto prendiamola come un insieme di soggetti che concorrono, pubblici e privati, quindi per formazione dobbiamo intendere proprio l'intera filiera, l'intera filiera per tutto l'arco della vita, quindi che è la scuola, l'università e la formazione professionale da una parte e quella aziendale dall'altra. Ecco, questa è una filiera non dialogante intanto, nel senso che sono tutte isole come anche questo, che appartiene anche a questa nostra cultura. C'è la progettazione scolastica, spesso è svincolata da quella che è un dialogo con l'azienda, l'azienda chiusa in se stessa, in un territorio, in un tessuto prevalente di piccole e medie imprese, dove spesso non si fa formazione e quindi c'è questa difficoltà di costruire filiera, di costruire sistema. Questa è la versante di chiamiamolo pessimistico, di difficoltà. La dimensione invece ottimistica è che dentro questo insieme, come caratteristica anche del tessuto produttivo del nostro paese, esistono tante eccellenze, esistono, che non riusciamo a mettere a sistema, ma abbiamo delle eccellenze che anche famose nel mondo poi che diventano, cioè non riusciamo ad avere magari la punta mondiale su un settore, su quell'azienda, su quella cosa, ma non il sistema. Ecco, anche così avviene anche nella formazione. Nella formazione, rispetto al digitale, stanno avvenendo fenomeni molto importanti di forti investimenti nelle aziende, in molte aziende, purtroppo non in tutte, dove sono coinvolte proprio programmi massicchi, sia grazie ai fondi professionali, ma anche con investimenti aziendali. Quindi siamo anche qui a un mix di finanziamenti. Da una parte c'è la stimolazione pubblica, certo, fondo nuove competenze e fondi professionali per stimolare la cultura digitale da una parte. Dall'altra però ci sono anche i soggetti aziendali o delle reti di territorio o scuole di associazioni imprenditoriali. Noi abbiamo anche qui, purtroppo non diffuse nel territorio nazionale, però abbiamo dei territori, mi viene a mente Vicenza, Bologna, la stessa Milano, dove le associazioni imprenditoriali hanno delle vere e proprie scuole, delle piccole e vere imprese. Ecco, qui si riescono a fare queste operazioni, in alcuni casi sono le camere di commercio che intervengono. Quindi abbiamo delle eccellenze, ma non abbiamo sistema. Questo è l'altro elemento, anche questo è lo specchio del nostro paese. Sì, dei poli, ecco, di eccellenza, ma poi sì, fatica a fare rete, appunto, tra scuola, università, aziende, mondo del lavoro. Anche questo, insomma, è un problema che ci trasciniamo da parecchio tempo. Un altro punto che volevo affrontare con lei, dottora Mikucci, riguarda invece proprio la durata della formazione, che è sempre più breve, nel senso, ecco, mi spiego cosa voglio dire, che le conoscenze che apprendiamo attraverso la formazione diventano in brevissimo tempo obsolete, perché appunto la tecnologia corre, corre veloce. E quindi, ecco, che cosa possiamo fare? Dobbiamo pensare ad una formazione di tipo permanente? Allora, questo, la formazione permanente, per tutto l'arco della vita, ci fu un consiglio d'Europa a Lisbono nel 2000, proprio, quindi 23 anni fa, che però entriamo nella società della formazione permanente, questo è il tema, per tutto l'arco della vita. Oggi però ce ne rendiamo conto, come tutte le cose anticipate, magari non era colto in quegli anni, oggi ci rendiamo conto che il cambiamento è così veloce, è così continuo, è così distraptivo rispetto al passato, dove ci sono delle parole nuove, che sono apprendere alla velocità del cambiamento, quindi questo è il tema delle... Dentro l'apprendimento c'è una parola nuova che non si usava nel passato, che è il saper disapprendere, perché nel nuovo apprendimento c'è anche l'isapprendimento, cioè lasciarsi alle spalle culture, abitudini, modelli che fanno ormai da tappo, per cui c'è questo fenomeno anche che mi piace considerare nuovo, che l'esperienza non è più un fattore di per sé esclusivo del successo, a volte può essere un tappo del successo, e nelle aziende che vogliono fare forte innovazione, cosa fanno? Fanno dialogare bene le diverse generazioni, e nasce quello che viene chiamato reverse mentoring, cioè nel senso che il formatore spesso diventa il neoassunto, che va a formare il suo capo sul digitale, così andrà fatto anche nella scuola, dove i ragazzi nativi digitali dovranno aiutare anche gli insegnanti a questo, e quindi siamo di fronte a una rivoluzione anche dei sistemi di apprendimento, è chiaro che la formazione deve essere breve, deve essere poi come singolo atto, perché deve accompagnare durante il lavoro, quindi noi stiamo andando a modelli formativi di accompagnamento, che non è più lasciamo il lavoro e andiamo in aula, ma mentre si lavora abbiamo ormai l'assistente virtuale, il tutor, il coach virtuale, il collega esperto, quindi noi apprendiamo anche mentre lavoriamo, poi abbiamo anche i momenti d'aula, ma ormai le aule aziendali si sono ridotte dal 50 al 75 per cento rispetto a dieci anni fa, quindi si fa molto meno formazione d'aula rispetto al passato. E forse anche l'esperienza del covid, della formazione a distanza, ha accelerato il successo. Questo l'ha accelerato, certo, ma era già iniziato questo processo, perché la formazione, l'aula è sempre importante, però fatta in modo più esperienziale, perché le parti teoriche si apprendono ormai online, e poi la dimensione esperienziale con cui il digitale permette di potenziare mentre si lavora, con queste forme di affiancamento, noi abbiamo un modello nuovo ormai di apprendimento, che è quello continuo, che è sul posto di lavoro, con assistenza digitale, e dove si fanno dei percorsi, noi le definiamo learn impact, dei percorsi di apprendimento fatti di un insieme e quindi di metodologie, dove intervengono anche, non c'è più il classico docente, ripeto, il docente può essere anche il giovane ne ho assunto per quanto riguarda... O addirittura virtuale, abbiamo detto. Può essere giovane, può essere virtuale, può essere collega, si fa l'apprendimento, ad esempio le comunità professionali apprendono molto tra pari, quindi con delle community virtuali, per esempio, che vengono fatte, dove c'è un problema, si lancia nella community, c'è la risposta, si fanno delle chat velocissime per risolvere queste cose, quindi si costruiscono quello che si chiamano degli ecosistemi, degli ambienti proprio, l'azienda come ecosistema di apprendimento, con tanti touch point, dove possiamo apprendere, che sono diversi, fisici e virtuali che sono, e quindi si va a un disegno nuovo dell'apprendimento, come finora esperienza delle medie e grandi aziende, costruendo nuove accademi digitali, quindi che diventano delle proprie scuole per formarsi quello che non riesce a formare la scuola o la società. Assolutamente. Ecco, io ho posto l'accento proprio sulla parola virtuale, coach virtuale, perché dobbiamo introdurre un'ultima tematica, quella legata all'intelligenza artificiale, che è uno step ulteriore, ecco, di intelligenza artificiale, se ne parla tantissimo, soprattutto dall'anno scorso, da quando ChatGPT è diventata parte della nostra quotidianità. Ecco, io le chiedo, l'intelligenza artificiale, quanto può essere utile alla formazione e se ci sono già dei casi d'uso? Sì, allora, per partire sempre da questo esempio che possono comprendere tutti, mentre noi navighiamo in internet, il sistema ci profila, ci riconosce, ok? Riconosce i nostri stili, i nostri bisogni e ci manda una pubblicità personalizzata e notizie pubblici. Questo qui, se una persona poi non è cosciente di questo, il rischio di manipolazione ce l'abbiamo anche sul piano culturale, politico, no? Perché se abbiamo dei soggetti esterni che conoscono perfettamente i bisogni, le caratteristiche di quella persona, si proprio proietta una... questo è il negativo, si proiettano quindi delle forme di manipolazione. Proviamo a rovesciare questo modello, usare gli stessi modelli di algoritmi, cioè profilazione, conoscenza degli stili, e invece di mandare pubblicità. In azienda o nelle scuole noi mandiamo un apprendimento personalizzato sulla base dei suoi bisogni, sulla base del suo stile. Una persona più visiva avrà bisogno di immagini, una persona più riflessiva avrà bisogno più di una parte uditiva e un percorso più lento. La persona che ha bisogno di toccare verrà invitata a fare esperienze. Ecco, questo è un futuro dell'apprendimento che si chiama adaptive learning, cioè apprendimento personalizzato, che l'intelligenza artificiale permette. Questo è già ormai attivo. È già realtà. È già realtà. Anche nel esempio, ormai nell'azienda che ho fondato, ormai che è in mano alla nuova generazione, ai figli e al management giovane che si è creato, si stanno preparando un grande evento, non c'è più la segreteria, ma c'è un assistente virtuale dove le persone possono dialogare con i chat e i gtp, che permette che dà tutte le risposte, ma non solo dà le risposte, dialogo con la persona in modo come che fosse un vero e proprio assistente, ma permette di perfezionare continuamente l'evento o il corso che andrà fatto. Anche quindi è con l'aggiornamento. Con l'aggiornamento sulla base del dialogo che viene fatto con il potenziale utente. Più dati si accumulano e più si sa come procede. Perché l'utente pone delle questioni, delle domande magari che il progettista non aveva posto. In questo modo diventa dialogico il rapporto. Quindi la personalizzazione è un fattore positivo. Però dietro c'è una dimensione etica molto importante perché usarla in termini di rispondere. Usarla bene, esatto. Si dice la persona, mettere la persona al centro e non la manipolazione che sta alle spalle di questa cosa. Assolutamente. Grazie molte. Io ringrazio il dottor Franco Amicucci, founder, presidente della e-learning company Schilla, per questo approfondimento davvero interessante. L'aspetto ancora qui alle fronti per continuare a parlarne perché lo abbiamo detto, è un tema di stretta attualità ma destinato a continue evoluzioni. Quindi grazie davvero. Grazie.